salve a tutti bentornati a questa serie di 100 video sui 100 canti della divina commedia oggi leggiamo insieme il tredicesimo canto dell'inferno siamo al cerchio settimo secondo girone i violenti contro se stessi e gli scialacquatori è un canto assolutamente stupendo poi in realtà come tutti gli altri della divina commedia ma forse particolarmente perfetto però d'altra parte stiamo scendendo sempre di più le fauci dell'inferno e quindi le tinte di queste opere visive e artistiche che Dante dipinge di fronte ai nostri occhi si fanno sempre più scure sempre più inquietanti infatti in questo girone Dante e Virgilio camminando si trovano nel cosiddetto bosco dei suicidi molto presto scopriamo che in realtà non si tratta di vegetazione ma questo ambiente fatto di pruni intricati senza foglie spinosi e senza alcun sentiero che vi passi attraverso in realtà è la rappresentazione anzi si tratta proprio delle anime dannate di questo girone gli alberi sono le anime dannate dei cosiddetti suicidi che appunto hanno portato violenza contro se stessi nella loro vita per citare il commento di Anna Maria Chiavacci Leonardi qui nell'intrico di Rami nel loro aspetto nodoso e fosco è raffigurato il disperato animo di coloro che giungono ad uccidersi e questo è il tema centrale del canto quell'orrore che travolge e sopraffa all'interno del cuore umano la giustizia la ragione il retto amore alla vita e conduce al gesto di massima ingiustizia contro se stessi la vicenda storica di Pier delle Vigne che è il protagonista di questo canto riassume in maniera sia storica che personale anche quindi intima tutto quello che le immagini di questo canto e le visioni che Dante presenta davanti ai nostri occhi vogliono esprimere in questo canto Dante ci parla del suicidio come estrema ingiuria di fronte all'amore supremo di Dio che è la visione cristiana del suicidio tutti noi includo anche me stesso in questo in qualche modo siamo stati segnati da uno o più suicidi durante la nostra vita o direttamente o indirettamente indirettamente magari perché una persona famosa si è suicidato qualcuno che non conoscevamo bene e a volte anche qualcuno che invece conoscevamo proprio bene quindi stiamo parlando di temi molto angoscianti fra l'altro questo è anche un canto molto intimo e personale per Dante nonostante questo noi non lo sappiamo di preciso sembra e io sono convinto che sia così che Dante stesso avesse raggiunto un livello di disperazione proprio nella sua vita quasi da spingerlo a commettere un suicidio ovviamente non l'ha commesso ma sicuramente in qualche modo è arrivato molto vicino a quei pensieri così tetri dunque Dante descrive il bosco dei suicidi così non fronda verde ma di color fosco non rami schietti ma nodosi e involti non pomi veran ma stecchi con tosco già da questa terzina e in questi video io di solito non faccio un'analisi letterale perché non ne sono in grado perché non è non è questo il mio scopo però in questo canto non posso esimermi dal fare un paio di commenti rapidi perché è incredibile come tutto in questo canto dalle immagini che Dante crea nella nostra immaginazione al linguaggio stesso che egli usa nelle terzine evoca questa tortuosità che non è soltanto la tortuosità dei ragionamenti delle anime dei suicidi quindi di un animo disperato ma allo stesso tempo questo stile evoca lo stile di scrittura che aveva pier delle vigne pier delle vigne che era il grande cancelliere di federico secondo grande giurista dei suoi tempi che era caratterizzato da un'intricatezza particolare infatti già questa seconda terzina del canto è come se ci dipingesse di fronte agli occhi uno di questi alberi coi rami assolutamente nodosi ed involti ma guardiamo ad esempio la terzina al verso 25 credi io che credette ch'io credesse che tante voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse Dante sa benissimo che cosa sta facendo qui sta usando una specie di mimesi una capacità mimetica del linguaggio di assorbire un concetto una realtà e trasmetterla al lettore attraverso le parole attraverso l'ordine delle parole questa è parte del suo genio assoluto come sempre nell'inferno l'eneide è sempre presente in controluce infatti in questo canto in particolare il libro terzo dell'eneide abbiamo qui le brutte arpie citate da Dante le brutte arpie l'ornidi fanno che cacciar delle strofade i troiani con tristo annunzio di futuro danno avevano dato una profezia molto negativa ai troiani che se ne andavano dalla grecia e che in direzione dell'italia in direzione di roma e gli avevano detto che avrebbero trovato tragedie e fame durante il loro viaggio ma prima di tornare all'eneide leggiamo il verso 22 io senti ad ogni parte trarre guai e non vedea persona che il facesse perché io tutto smarrito ma restai abbastanza chiara questa scena sente dei guaiti dei qualcuno che si lamenta in maniera molto disperata però non vede assolutamente nessuno qui chiederò aiuto a father pearson che è l'autore di questo libro spiritual direction from dante ha scritto una trilogia di libri con una direzione spirituale basata sulla divina commedia in inglese e per quanto riguarda il canto tredicesimo e i suicidi in particolare padre pearson dice ogni volta che soffriamo così come vorremmo che il dolore se ne andasse vorremmo anche che il nostro la nostra sofferenza fosse capita e ascoltata insomma vogliamo essere ascoltati vogliamo esprimerci e quando sentiamo che non abbiamo alcun modo di esprimere la nostra sofferenza come se non avessimo voce proprio ci sentiamo così isolati che siamo spinti proprio ai limiti della nostra sopportazione in effetti le persone che contemplano il suicidio non stanno semplicemente cercando la fine della loro sofferenza ma stanno proprio cercando di comunicare a noi che cosa stanno provando stanno cercando di comunicare la loro esperienza a noi stanno cercando in una maniera che è profondamente distruttiva la loro voce e insomma questo bellissimo passaggio di padre pearson ci aiuta perlomeno aiuta me a capire ancora più in profondità la natura di questa immagine l'immagine del dannato che è contenuto che è racchiuso in un albero in un albero senza foglie e che non può parlare non può esprimere nulla quindi veramente moltissimo di questo canto ha a che fare con la comunicazione ma il suo contrario la impossibilità di comunicare e la ricerca di esprimere se stessi in una maniera che è distruttiva al verso 28 interviene virgilio e dice se tu tronchi qualche fraschetta di una dieste piante lì pensier che hai si faranno tutti i monchi qui prendo in mano la mia eneide perché c'è un passaggio davvero straordinario nel libro terzo verso 25 che ovviamente aveva colpito moltissimo anche dante che ricordiamoci era innamorato dell'eneide adorava l'eneide e il passaggio parla di enea che trova il cadavere di polidoro che riesce a sanguinare e addirittura parlare attraverso dei giunchi delle piante che sono conficcate nel suo cadavere sottoterra e questo è enea mi avvicinai tentai di svellere una verde frasca da terra per ricoprire gli altari di rami frondosi e vedo un prodigio orrendo cosa incredibile dirsi infatti l'arbusto che spezzate le radici per primo estrapato da terra stilla gocce di nero sangue che macchino di putreri nella terra un orrore raggelante mi scuode le membra e il sangue se la prende gelido per il terrore una voce ne esce e giunge alle mie orecchie perché o enea laceri un infelice abbi infine pietà di un sepolto guardati dal contaminare le devote mani quindi non è una coincidenza che dante al verso 34 dica da che fatto fu poi di sangue bruno ricominciò a dire perché mi scerpi non hai tu spirito di pietà di alcuno e rispetto a virgilio nell'eneide dovremmo dire che dante come spesso fa rende le stesse similitudini le stesse immagini ancora più vive ancora più reali e le rende ancora più angoscianti perlomeno nell'inferno qua ad esempio dove dice come d'uno stizzo verde carso sia dall'un dei capi che dall'altro geme e cigola per vento che va via sì della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue quasi ce lo vediamo questa apertura nella canna che sputacchia sangue e parole nello stesso momento è una cosa orrenda insomma pier della vigna si presenta a dante e dice io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di federico la chiave del sì la chiave del no e che le volsi serrando e disserrando si soavi che dal secreto suo quasi ogni uomo tolsi in quanto grande cancelliere di federico secondo pier della vigna aveva un ruolo di una grandissima responsabilità e grandissima importanza e lo prendeva con la massima serietà questo lo sappiamo da fonti storiche che cosa successe pare che come dice dante al verso 64 la meretrice ovvero l'invidia l'invidia di corte insomma che mai dall'ospizio di cesare non torse gli occhi putti morte comune e delle corti vizio ci fu una specie di cospirazione qualcuno mentì a federico a riguardo di pier della vigna e di conseguenza pier della vigna fu incarcerato per il resto della sua vita e poi commise un terribile suicidio nella prigione poi dal verso 93 al verso 108 pier della vigna in risposta a una domanda di dante spiega un po diciamo la il procedimento per cui un'anima arriva all'inferno un'anima suicida viene mandata da minosse in questo particolare girone e poi spiega anche che cosa succederà a queste anime nel momento del giudizio universale quando tutti quanti riavranno le loro spoglie le loro spoglie il loro corpo insomma e come dice pier della vigna qui al verso 103 come l'altre verrà per nostre spoglie ma non però calcuna se rivesta che non è giusto aver ciò com si toglie per l'affronto che hanno fatto a dio e soprattutto contro il loro corpo per aver rifiutato il loro corpo nella maniera peggiore possibile non se lo meritano neppure nell'aldilà neppure dopo il giudizio finale anzi queste anime riceveranno i loro corpi però con delle istruzioni molto chiare qui le trascineremo le nostre spoglie nei nostri corpi e per la mesta selva saranno i nostri corpi e corpi appesi ciascuno al prun dell'ombra sua molesta proprio come il primo suicida cristiano che fu giuda iscariota uno dei vari dei primi commentatori della linea commedia pietro di dante disse che il vero peccato punito in questo canto in questo girone non è tanto l'atto di per sé del suicidio ma il movimento nell'animo della disperazione e cioè la perdita di speranza questo è quello che unisce i suicidi con questi altri peccatori che vediamo subito dopo che sono gli scialacquatori gli scialacquatori sono peggio nella gradazione dei peccati dei prodighi che abbiamo visto un po più su nell'inferno sono peggio perché hanno distrutto con violenza tutti i loro averi quindi provocando un danno una violenza a se stessi molto grave il che è diverso dal semplicemente spendere troppo o essere prodighi dunque della speranza poi dante avrà molte opportunità di parlarci di nuovo soprattutto nel paradiso e in maniera altissima comunque visto che parliamo appunto della disperazione come un peccato mi sembrerebbe giusto qui citare la enciclica spe salvi di benedetto ventiseiesimo che è relativamente breve ma davvero splendida che proprio in introduzione nel primo nella prima pagina dice spe salvi facti sumus nella speranza siamo stati salvati dice san paolo ai romani e anche a noi nelle lettere romani la redenzione secondo la fede cristiana non è un semplice dato di fatto ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza in quanto cristiani una speranza affidabile e cioè il presente anche un presente molto faticoso può essere vissuto ed accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri se questa meta è così grande per giustificare la fatica del cammino e di quale tipo di certezza di quale tipo di speranza si tratta poi lo vedremo una volta che usciamo dall'inferno il canto tredicesimo termina con una specie di vignetta una specie di quadretto sull'anonimo fiorentino un anonimo suicida fiorentino è una maniera molto elegante molto poetica di presentarci un'altra anima suicida che dante ha che in parte riporta tutto il discorso anche alla sua città natale ovviamente che è nel suo cuore e proprio perché fiorentino quest'anima questo personaggio in mano all'autore dante non manca di tirare un'altra stafilata a firenze e alla sua cupidigia infatti qui dice i fui della città che nel battista mutò il primo padrone on day per questo sempre con l'arte sua la farà trista insomma firenze una volta era protetta da marte e marte era stato rimpiazzato da giovanni battista come protettore della città che tra il resto è raffigurato sul retro dei fiorini d'oro e quindi sicuramente dante sta parlando del denaro della cupidigia della dividibilità che quello il problema maggiore di firenze e questa povera anima conclude il canto dicendo io fei negativa fin dai tempi di agostino infatti agostino nella sua città di dio contrastava e attaccava la maniera di vedere il suicidio che andava di moda diciamo fra gli stoici l'etica stoica vedeva comunque il suicidio come in certe condizioni un atto eroico un atto che non solo da desiderare ma anche quasi da onorare e da vedere con gloria il cristianesimo ribalta completamente questa visione la chiesa cattolica dice noi siamo amministratori non proprietari della vita che dio ci ha affidato non ne disponiamo il suicidio contraddice la naturale inclinazione dell'essere umano a conservare e a perpetuare la propria vita esso è gravemente contrario al giusto amore di sé al tempo stesso è un'offesa all'amore del prossimo perché spezza ingiustamente i legami di solidarietà con la società familiare nazionale e umana nei confronti delle quali abbiamo degli obblighi e il suicidio è contrario all'amore del dio vivente interessante che all'articolo 2283 il catechismo dica non si deve disperare della salvezza eterna delle persone che si sono date la morte dio attraverso le vie che egli solo conosce può loro preparare l'occasione di un salutare pentimento come sempre vi ringrazio moltissimo per l'ascolto per questi pochi minuti di riassunto e di commenti per lo più non miei ma che mi sembrano molto adatti a commentare questo questo canto per cercarne appunto il centro e ci vediamo prestissimo con il canto 14 ciao ciao